Cosa abbiamo detto? Che nella giornata di oggi è stato scelto un diritto. Poi ho pensato che in valigia, quando io sono partita, ed è capitato che io sia partita per un periodo un po' lungo, abbiamo messo una serie di cose. Ed è forse proprio per questo, per questa diversità, che riusciamo a fare una musica così bella, un'armonia. Cos'è un'armonia? Cos'è l'armonia? L'armonia è una cosa che suona bene insieme. Grazie a tutti! come mi sento quando mi chiedono da dove vieni quando me lo chiedono all'estero mi sento veramente ricco dico io vengo dall'italia ma vengo anche dal pakistan quindi mi fa sentire veramente orgoglioso quando un italiano mi chiede sentendomi o senza anche conoscermi da dove vengo inizialmente mi facevo sentire diverso perché comunque sottolineavo il fatto che io non ero italiano non ero considerato italiano laddove io comunque mi sentivo italiano